buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video sorgato al tecolbo.com se non sei già iscritto al canale ti invito a iscriverti per rimanere aggiornati su ultime guide e novità tecnologiche oggi facciamo una breve guida introduttiva dell'applicazione keynote cos'è keynote l'abbiamo già vista in un altro video ed è sostanzialmente il powerpoint di apple difatti le funzioni sono molto simili a quelle di powerpoint per windows molto più conosciuto keynote è la stessa applicazione solo di realizzazione apple molto più semplificata su ipad e iphone difatti è disponibile sia per schermi piccoli sia per schermi grandi chiaramente per utilizzare al meglio è consigliabile utilizzare su ipad anche se su iphone è ben ottimizzata quindi a cosa serve per creare presentazioni presentazioni dinamiche quindi anche animate e modificare a proprio piacimento automatizzandole e anche è possibile convertire la presentazione in un video e per questo ti lascio in descrizione il video nel quale abbiamo visto come convertire una presentazione in keynote in un filmato prima di tutto devi scaricare l'applicazione keynote che è questa qua una volta scaricata puoi aprirla per creare una nuova presentazione o clicca crea presentazione oppure clicca il tasto più sostanzialmente come vedi arriverai allo stesso menu quindi clicchiamo crea presentazione abbiamo due scelte scegli un tema nuova presentazione in vista struttura iniziamo dato che siamo le prime armi da scegli un tema a questo punto ti troverai questa schermata e non è nient'altro che la schermata nella quale ti appaiono tutte le anteprime delle presentazioni presenti di default selezioniamo quindi uno a caso qua come vedi è possibile visualizzare in base al tema quindi di base minimalisti le anteprime dei temi già preimpostati sostanzialmente non è nient'altro che un'altra visualizzazione di ciò che vedi scorrendo in basso clicchiamo il primo gradiente di colore come vedi è già preimpostato titolo presentazioni sottotitolo autore data cliccando su più qua è possibile aggiungere altre diapositive diapositive che sono suddivise in base a diverse categorie quindi titolo e foto titolo e foto 2 e una serie di altre diapositive foto 3 per pagina in base alle tue scelte come vedi sono molto semplici questi temi perché sono già preimpostati cliccando più di fatti potrai con un semplice tab cambiare foto perché appunto questa diapositiva è relativa alle foto per eliminare le diapositive basterà cliccare su elimina per duplicarle duplica per spostarle tab prolungato e basterà spostarla nella posizione desiderata e rilasciare copia incolla quindi per copiare incollare una diapositiva e a questo punto le funzioni principali li abbiamo viste passiamo alle principali funzioni grafiche quindi per spostare le caselle di testo che sono queste vedi il riquadro basterà cliccare sopra la casella di testo e spostarlo in alto a destra a sinistra in base alla propria preferenza e di conseguenza tutte le altre potrai eseguire la stessa operazione per eliminare una casella di testo basterà cliccare una volta sulla casella di testo cliccare su elimina per modificare il testo basterà cliccare come visto sulla casella di testo doppio un doppio tap sul testo eliminiamo elimina titolo presentazione come vedi a questo gradiente che va dall'azzurro al colore fucsia rosa cliccando due volte possiamo modificare il testo e chiaramente nella stessa formatazione come si fa modificare la formatazione basterà selezionare la casella di testo cliccare il pennello qua in alto a destra e qua avremo tutto un menu menu veramente immenso la prima il primo tab stile modifica tutta l'intera casella di testo quindi non modificherai solo il testo modificherai tutta la casella di testo qua ci sono dei modelli preimpostati di fatti se clicchi vedi come si modifica per tornare indietro basterà cliccare la solita freccia indietro posta qua in alto a sinistra torniamo alla versione originaria riempimento se vuoi modificare solo riempimento della casella basterà cliccare su questo pulsante qua vi sono alcuni colori di default in present come vedi le varie categorie colore accedi a dei colori monocromatici e qua avrai la classica rotellina per modificare a tuo piacimento se vuoi farlo dello stesso colore clicca su questo pulsante e come vedi viene ripreso lo stesso colore quindi andiamo qua clicca su questo pulsante ad esempio voglio farlo di questo colore qua seleziono e come vedi verrà impostato questo colore torniamo indietro bordo sempre della casella di testo cliccando su stile potrei modificare lo stile del bordo mettiamola ad esempio in colore bianco così è più evidente e con uno spessore maggiore adesso si nota meglio vedi lo stile come cambia oppure potrei mettere questi bordi qua preimpostati ok ci siamo lasciamola in bianco così si nota di più ombreggiatura se vuoi mettere l'ombreggiatura della sempre casella di testo riflesso come vedi sempre della casella di testo opacità e anche questa è relativa alla casella di testo in base al cursore potrai modificare se vuoi aggiungere un titolo clicca su questo pulsante in alto in basso in base alle tue preferenze di solito non si mette didascalia anche questa di solito non si mette ma se vuoi aggiungere basterà cliccare su questo flag e apparirà quindi per modificare la casella di testo clicca sulla casella di testo e vai nel tab stile vedi che qua vicino nel mezzo c'è una casella con scritto testo qua modificherai solo il testo che adesso è ciao abbiamo dei caratteri preimpostati che possiamo poi aggiornare in base alle nostre preferenze quindi se vogliamo se abbiamo una casella di testo titolo basterà cliccare su titolo e avremo il nostro carattere già preimpostato vuoi modificare il font clicca qua e poi selezionare il font desiderato se vedi alcuni font hanno una i di colore blu cliccando c'è possibile scegliere le varie tipologie di scrittura vedi regolare corsivo leggero semi grassetto ultra grassetto chiaramente non vale per tutti i font perché ad esempio queste sono in questo formato cliccando invece su quest'altro possono essere di meno ok a questo punto il per la parte del font è finita come vedi spunta questo pulsante aggiorna e ciò significa che vuoi assegnare al carattere preimpostato informazione questo determinato font questa dimensione del testo e questa colorazione quindi se clicchi aggiorna si aggiornerà se invece non lo fai avremo informazione tornerà alle caratteristiche che aveva quel determinato paragrafo quindi quel determinato paragrafo chiamato informazione qua molto semplice di grassetto i corsivo un sottolineato s sbarrato cliccando sui tre puntini si apre un ulteriore menu dal quale abbiamo linea di base sopra o sotto non viene utilizzato mai semmai per le potenze ad esempio tutte maiuscole maiuscoletto iniziali stile titolo tutte le iniziali come vedi cambia il testo a questo punto possiamo inserire un bordo anche la scrittura attivando questo flag stessa cosa che abbiamo visto prima tipo di riga come vedi viene modificato la linea che fa da bordo colore anche qua è possibile sceglierlo come vedi viene modificato in base alle tue preferenze spessore abbiamo appena visto sfondo testo come vedi è possibile aggiungere uno sfondo al testo diciamo che possiamo definirlo come un riempimento della casella intorno testo o meglio un evidenziatura sui programmi windows quindi sfondo testo lasciamo vuoto è meglio per questa parte ci siamo a questo punto dimensioni molto semplice se clicchi qua potrai scriverlo con la tastiera se invece vuoi modificarlo con i pulsanti potrai fare così mi chiederai perché non viene modificata la grandezza sostanzialmente vi è questo tab qua attivo che come vedi adatta il testo alle dimensioni della casella di testo se io di fatti la ampio vedi che arriva alle dimensioni prestabilite di fatti se abbasso vedi come il testo via via diventa più piccolo quindi lasciati consiglio di lasciare attivo questo ultimo flag perché ti adatta alle dimensioni della casella di testo vedi più piccola è più il testo si rimpicciolisce se così non fosse quindi se disattivo questo flag il testo non si rimpicciolisce e non lo leggerai più ok fin qua ci siamo dopo classici pulsanti colore testo abbiamo present colori come abbiamo già visto colore i vari colori gradiente abbiamo un colore iniziale e la possibilità di selezionare un colore finale inverti colori come vedi vengono invertiti anche nel nello sfondo del testo angolazione questo è sempre relativo al gradiente applica gradiente all'intero oggetto ed è possibile inserire anche un'immagine quindi modifica immagine potrai inserire un'immagine come sfondo del tuo testo qua potrai gestire le angolazioni tutta una serie di impostazioni sulle quali non ci soffermiamo questo riguarda il posizionamento del testo all'interno della casella quindi sinistra centro destra giustificato qua allarghiamo un po la casella di testo così capisci meglio qua avrai testo disposto nella parte superiore al centro nella parte inferiori punte d'elenco qua basterà cliccare e aggiungere il punto d'elenco desiderato cliccando sui giungerai a questo menu nel quale è possibile modificare a proprio piacimento i punti d'elenco dal colore al tipo di punta le dimensioni eccetera sul quale sulli quali non ci soffermiamo quindi togliamo mettiamo nessuno a questo punto abbiamo un rientro o togli rientro spaziatura linea è la classica spaziatura tra una linea e l'altra colonna è possibile impostare più di una colonna se vedi adesso proviamo a scrivere vedi che sono due colonne doppia colonna se vuoi tornare ad una colonna basterà fare meno e tornerai alla stessa colonna questa è relativa ai margini sempre della casella di testo adatta riducendo il testo stessa cosa che abbiamo visto prima quindi torniamo a questa versione qua torniamo su modifica sul pennello abbiamo disponi questo perché possono esserci più caselle di testo e qua possiamo spostare la nostra casella di testo in secondo piano oppure in primo piano in base alle preferenze qua potrai capovolgere la tua casella di testo oppure ruotarla tramite questo cursore qua oppure cliccando su questo pulsante qua è possibile digitare il tipo di angolazione ok torniamo qua e gli diciamo 0 se vuoi bloccare l'elemento basta cliccare su blocca di modo che non potrai per sbaglio modificarlo o spostarlo di posizione nel caso in cui vedi non posso muoverlo quindi clicca su sblocca e adesso tornerà mobile quindi a questo punto parte relativa alla casalla di testo ci siamo se vuoi copiarla basterà cliccare copia e incolla e ne avrai una uguale a questo punto per eliminarla clicca su elimina se vuoi aggiungere altri elementi clicca su più più si apre un mondo nel senso che se clicchi il primo tab aprirai un menu relativo alla creazione di una tabella per aggiungere linee o meno basterà cliccare su questo pulsante qua con questo cursore modificherai il numero delle righe e da quest'altra parte il numero delle colonne cliccando su questo pulsante qua potrai spostarlo per modificare la grandezza clicca su questo pulsante oppure su questo in base alle preferenze per aggiungere un testo doppio clic aspettate che sposto questa in alto così è più visibile ok doppio clic e scrivi il testo desiderato a questo punto come faccio modificare il testo all'interno della colonna clicca sul pennello quindi il trucco sta nel cliccare l'elemento che vuoi modificare e qua potrai accedere a questo menu nel quale potrai modificare il singolo campo quindi tabella modifichi la tabella non ci soffermiamo molto se non diventa una guida molto lunga se vuoi modificare il testo quindi selezioni solo questo testo modificare il testo di queste due celle basterà selezionare entrambi e come vedi verrà modificato così come abbiamo visto prima sostanzialmente le impostazioni relative al testo sono le stesse formato qua diamo il numero di formato cioè cosa contiene quella determinata cella automatico numero valuta di solito è consigliabile lasciarlo automatico ti dico già che keynote non è come excel o come numbers che è lo stesso programma solo di apple quindi va bene fare le tabelle però non è software per fare ad esempio calcoli molto lunghi però per semplificare è possibile aggiungere anche la tabella disponi in primo piano o in secondo piano vediamo se ti riesco a far capire quindi seleziono la tabella gli dico mettiti in secondo piano vedi che la tabella la casella di testo va in primo sostanzialmente serve a questo ok tabella ci siamo possiamo eliminarla non ci dedico altro tempo quindi basterà cliccare su questo pallino qua in alto clicca su elimina più abbiamo i grafici mettiamo questo grafico qua abbiamo modifica dati ci aprirà questa schermata qua dove potremo modificare i dati qua è possibile scegliere il tipo di grafico non mi soffermo tanto per gli stessi motivi di prima perché il video durerebbe tanto tempo basta sapere che è possibile inserire anche i grafici qua abbiamo 2d 3d 3d devo dire sono molto belli anche da visualizzare stessa cosa di prima modifica dati modifica serie tutta una serie di altre funzioni magari se vi interessa ci dedicheremo un video ad hoc interattivo anche questo molto bello però vedi come si muove effettivamente il 3d rende molto di più questo tab riguarda le forme è possibile inserire una forma vuoi aggiungere un testo doppio clic e potrai aggiungere il testo vuoi aggiungere una casella di testo clicca qua e verrà aggiunta una casella di testo sostanzialmente come questa qua solo che parti da zero senza formatazione geometria oggetti animali natura alimenti simboli istruzione arte scienza persona luoghi attività e tutta una serie di altri tab veramente le animazioni sono infinite per modificare il colore inserisci l'icona che vuoi cliccaci sopra clicca sul pennello e qua potrai modificare il colore quindi riempimento bordo se vuoi aggiungere un bordo qua selezioni come ho visto e tutte le funzioni che abbiamo visto fino a prima sostanzialmente le funzioni sono le stesse solo che cambiano in base all'oggetto che selezioniamo quindi più da questo ultimo tab è possibile aggiungere foto video fare una foto in diretta quindi fotocamera registrare un audio video in diretta video web galleria immagini inserisci da ad esempio un file disegno equazione non mi soffermo su questa schermata se vi interessa la vediamo in un altro video in modo più approfondito e a questo punto possiamo passare alla parte delle animazioni abbiamo già visto qualcosa ieri nel video relativo alla creazione di un filmato tramite keynote ma adesso ci dedichiamo magari un due minuti in modo veloce per capire meglio quindi siamo nella nostra schermata come faccio ad aggiungere un'animazione se vuoi aggiungerla alla casella di testo basterà cliccare qua e andare su animazioni se vuoi aggiungere invece una transizione cioè un'animazione tra una slide e l'altra basterà cliccare sui tre puntini clicchiamo quindi su animazione e ci aprirà questo menu quando vedi questo sfondo di colore azzurro nella parte alta del dispositivo significa che siamo nel menu animazioni quindi ti rifaccio vedere vuoi mettere una transizione clicca sui tre puntini e vai su animazioni vuoi invece mettere una mia azione solo alla casella di testo clicca sulla casella di testo animazione ti si apre lo stesso menu di fatti cosa succede io clicco sui tre puntini animazione e vedi che è cliccata selezionato la casella di testo in questo modo io sto mettendo un'animazione alla casella di testo se schiaccio fuori vado nelle transizioni quindi voglio aggiungere un'animazione alla casella di testo seleziono l'elemento al quale voglio aggiungere l'animazione quindi voglio aggiungerla a questa casella di testo seleziono questa vuole aggiungerla a questa seleziono quest'altro ci clicco sopra animazione in entrata e qua ci sarà tutta una serie di animazioni anche molto belle e cliccandoci sopra aspettando qualche secondo ci darà un'anteprima del risultato ad esempio metto questa che mi piace molto a questo punto abbiamo visto un'anteprima se vuoi invece mettere non mettere alcuna animazione clicca su nessuna e sarà statico quindi clicchiamo su questa clicchiamo fuori azione quindi nel mezzo cosa fai non è obbligatoria ma la inseriamo riclicco animazione in uscita dissolvi esposto oppure allontanamento oppure espandi mettiamo sfocatura oppure tastiera anche tastiera molto bello vedi che cancella il testo ok ci siamo quindi abbiamo tre animazioni una entrata una centrale e un'uscita a questo punto potrei modificarle perché adesso mandiamo in play come vedi non accade niente in automatico ma dovrai fare un tocco e le animazioni si attivano al tocco per farlo eseguire automaticamente basterà tornare sulle animazioni cliccare sulla tabella sulla casella di testo che vogliamo modificare clicchiamo sull'animazione e qua potremo con questo primo pulsante spostando destra sinistra modificare il tempo ad esempio mettiamo 20 secondi questa riguarda una funzione di questa determinata animazione anche la distribuzione ma possiamo lasciarlo così come impostato clicchiamo inizio dopo la transizione vuoi inserire un ritardo sì o no lasciamo no se vuoi modificare l'animazione clicca su modifica qua e la modifichi ridimensiona qua dobbiamo dirgli ok va bene qua riguarda solo questa animazione la il percentuale di ridimensionamento vedi dietro come aumento come diminuisce durata questo abbiamo già visto prima accelerazione anche questo riguarda solo questa determinata animazione inizio no toccando ma inizia subito dopo l'animazione 1 quindi animazione 1 coriandoli quando è finita questa ridimensiona proviamo così capisci vedi che fa in automatico ok torniamo qua inseriamo inizio dopo l'animazione 2 da sinistra la chiesta non era stata ben impostata mettiamo magari così ok e fin qua ci siamo a questo punto vogliamo aggiungere una transizione quindi tra una diapositiva e l'altra clicchiamo fuori clicca aggiungi e qua può inserire una transizione tra una diapositiva e l'altra una volta inserita clicca fuori perché potrai modificarlo quindi durata da destra a sinistra rimbalzo attivo no questo riguarda sempre questa determinata transizione inizio automaticamente qua li mettiamo un ritardo va bene di 50 secondi quindi adesso proviamo sarà tutto automatizzato perché andrà direttamente alla slide successiva vedi e siamo nella slide successiva chiaramente questa slide non l'abbiamo impostata quindi si blocca qua se facciamo la stessa cosa quindi andiamo qua animazione aggiungiamo la transizione andrà alla slide successiva partiamo dall'inizio clicca su play e a questo punto come vedi vi è una transizione per modificare l'ordinamento delle slide basterà cliccare sopra e e posizionarla in base alle preferenze e fin qua ci siamo bene amici direi che questo video è durato abbastanza se il video ti è piaciuto aggiungi un mi piace iscriviti al canale al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti